Le condizioni di via Cassetti potrebbero migliorare a breve, nei prossimi giorni infatti dovrebbero iniziare i primi interventi per verificare le effettive cause che hanno provocato il cedimento nell'arteria e quindi i disagi per i residenti della zona, così come spiega l'ingegnere Giuseppe Tomasella, dirigente della seconda direzione del comune di Caltanissetta. Su via Cassetti si è verificato uno sprofondamento di una parte della strada, diciamo che l'intervento che viene chiesto sempre al comune perché l'interlocutore è diretto, poi il comune verifica se sono cedimenti dovuti a sottoservizi vari, dall'acqua alla fognatura, a rete telefonica, a rete di gas, perché chiaramente ognuno ha la sua competenza. Dagli indagini che abbiamo svolto, diciamo che è presumibile che l'intervento sia dovuto a un cedimento, dovuto a una rete pognaria, una rete idrica. La cosa non è così certa in verità, però Caltacqua si è dimostrata disponibile, in ogni caso fare l'intervento in settimana e quindi procederà Caltacqua a scavare per verificare qual è la natura del problema e trovare la soluzione definitiva.